Grazie! Sì, sì. Vedete sapere che loro mi prendono sempre in giro perché faccio sempre quello che voglio. Non li seguo mai. In realtà io non ho mai studiato tanto, mentre loro sono professore di chitarra, di batteria, di tromba e di basso. Però comando io. Quindi è così. Prossima canzone, Don't worry, be happy. Iniziami, troppo. Se ad esempio tutti voi che siete qua davanti e mi guardate, che poi sono pure brutta red, perché sono proprio bene, mi battete le mani tutti insieme, attento, vai. Ta, ta, ta. Anche voi dietro. Non ve l'hanno già state le mani. Signori, le mani, le mani, le mani, altrimenti io spengo. Volete vedere come spengo tutto? Guardate. È facile, perché ci vuole tanto. Quando riaccendo le mani, mi raccomando, altrimenti ce ne andiamo. E tanto ci pagano comunque, almeno in vi pagavo. Quindi, vai. Vai con le mani, vai, vai. Tutti insieme, tutti insieme. Tutta la piazza. Che bella di Ziconi, che vi riunite tutti qua per la festa dell'Abbidro, organizzata dall'Associazione Corà. E sono bravissimi. Poi vi vorrò sul palco, mi raccomando. Tanto noi sappiatelo anche i limitrofi che stanno qui. Noi suoneremo fino alle 4 del mattino. Tanto domani vado direttamente al lavoro. Vi volevo anche dire che la birra non è finita. E neanche i cox e la bar. Così vi dissi l'invito un po' e battete le mani insieme a me. Non è giù, è un'ingiustizia che fate le foto a meno perché è bello, eh. Non vale questa cosa. Non vale questa cosa. Non vale questa cosa. Non vale questa cosa. 15 years in a heightened sin, tries regretting, giving him hope for a destination. I realized that he went even sooner, the world remained a proven, oh my man, proven, oh my man. So I pray sometimes when I lie in the bed I'm just giving hold up and in my head and I I'm feeling a little bit surreal And so I wake in the morning and I sleep outside Take a big break and I take real life and hide Scream and talk in my heart what's going on And I say yeah, 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 yeah Hey, yeah, yeah, yeah Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.